La sostenibilità è una vostra priorità allora io ti chiedo dal tuo punto di osservazione qual è il termometro di questa situazione però sul mercato Italia in particolare cresce la domanda Eco? Negli ultimi anni si è sempre detto altri mercati sono più avanti e l'Italia ancora non è così interessato in tematiche di ecosostenibilità devo dire che negli ultimi periodi questo si è cambiato radicalmente anche l'Italia mediamente ha generato una awareness importante per tematiche chiamiamole CSR penso che è importante che continuiamo in tutti gli ambienti a pensarla a medio e lungo termine e questo mi sembra un'esperienza importante non è tanto dare una risposta alla tematica chiamiamola di moda per il momento che un giorno è RPFC l'altro giorno è un'altra tematica ma noi pensiamo che deve essere cultura dell'azienda deve essere cultura del marchio e tramite questa cultura uno deve ingaggiarsi sicuramente sostenibilità o in altre parole essere un marchio essere un'azienda orientata al futuro perché lo vediamo così è una responsabilità importante che il consumatore valorizza e siamo convinti che sempre di più diventerà la base di un'azienda di un marchio nel nostro settore grazie a tutti